Io mi rifarei a quello che Gesù dice alla Samaritana per definire chi è lui in fondo perché la Samaritana a un dato punto dice ma chi è il Cristo, chi è il Messia e lei e il Signore dice è colui che parla con te. A Pasqua io credo che abbiamo la conferma che Gesù è colui che parla con ciascuno di noi e parla con una parola che arriva a raggiungerci da oltre la morte e pronuncia il nostro nome in una maniera che non abbiamo mai sentito. Credo che sia questa l'esperienza di Pasqua e sentirsi chiamare da Gesù come dal vivente che ci dà la forza di vivere già adesso una vita che non teme più la morte. Questo è importante anche per le persone di oggi? Direi proprio di sì perché il grande stupore è proprio accorgerci che c'è qualcuno che è con noi, radicalmente con noi, stabilisce un rapporto con noi anche dentro l'esperienza dell'inevitabile, dell'apparentemente irreversibile, anzi dell'irreversibile come la morte e lì troviamo un volto, un nome, qualcuno che si rivolge a noi e ci fa sentire la sua presenza. Ecco Pasqua è stupore perché ci fa scoprire come persone in relazione, radicalmente in relazione, che la morte, una relazione che neanche la morte può spezzare. Uno stupore come questo l'abbiamo trovato intervistando il cardinal Ernest Simoni, albanese che è stato prigioniero per molti anni sotto il regime comunista. Ascoltiamo cosa ci racconta. Per me come presbitero semplice, 60 anni quasi, che sono ordinato nel 1956, è stato tutto l'improvviso. Quando il servante della Santa Messa ha pistola con gli albanesi, nell'angelo che il Santo Padre fa ogni settimana, nella domenica, ho sentito e scritto il mio nome come Cardinale Invento. Non potevo mai credere. Allora pure oggi quasi quasi sono un po' titopante, posso dire, è tutto vero. Ma per essere missionari di Gesù, per emanare l'amore di Gesù è il nostro primo obbligo, per salvare le anime, i pastori che Gesù ci chiede a noi, ogni giorno, ogni ora, per fare tutto l'impossibile, avvicinare i giovani, i ragazzi, i ragazzi, tutto il popolo, per credere in Gesù, amare Gesù. È Gesù che vive tra noi, solamente nella ideologia dell'amore infinito, amare e perdonare i nemici. Penso che questa sia stata la causa che io sono salvato e Gesù mi ha salvato da tante vicende, fin da oggi. Un Cardinale che ha subito la prigionia per tanti anni e dice ancora con lo slancio di un giovane presbitero è importante amare i nostri nemici. Questo cosa significa in un mondo come il nostro in cui sembra che i nemici non ce n'è? Significa che prima di tutto ci rendiamo conto che un amore del genere lo possiamo prima di tutto soltanto ricevere. Gesù stesso che ci ha amato mentre eravamo ancora peccatori, quindi ci ha mostrato un amore che non si ferma di fronte al rifiuto dell'altro e ce lo ha dimostrato fino a scendere nell'abisso della morte, nell'abisso dell'abiezione. E quindi io credo che da lì che la parola di Gesù, il suo chiamarci per nome diventa una qualcosa che possiamo udire, lo possiamo udire, lo possiamo credere perché lui non ci dice una cosa vuota ma qualcosa che lui ha mostrato nel partecipare fino in fondo alla nostra condizione di essere umani, mortali, fragili e da lì ci dona questa parola che ci fa risorgere e credo che l'esperienza del Cardinale Simone va proprio in questo senso, cioè l'esperienza di un credente che si rende conto che la voce di Gesù gli permette di stare nella tempesta perché prima di tutto Gesù si è messo in questa tempesta e viene come l'angelo che viene mandato dal Signore nella fornaccia ardente per creare questa rugiada che permette al credente di attraversare la prova. Ecco io credo che sia qui che abbiamo la misura vera del mistero pasquale, un amore che prende così sul serio lo stare con noi da prenderci nella morte e portarci alla vita. Certamente io ogni giorno pregavo nelle miniere dove ero nel carcere, non gli accettavano lavorare nelle miniere quei anziani che avevano compiuto 50 anni. Io ero 38 anni, avevo tempo da compiere 50 anni e ho lavorato nelle miniere. Il Signore mi ha pensato di salvarmi. era condannato. Per la propaganda della fede ci impiegheremo perché è detto dal popolo di morire tutti per Gesù. Per gli esorcismi che Dio mi ha aiutato tante volte, la loro fede li ha salvato e li salva ogni giorno. Pur anche per la messa che avevo celebrato per l'anima di Giovanni Kennedy, il Presidente americano. Il fondamentale era per la propaganda della fede. Dopo 18 anni sono così detto liberato dalla prisione, ricondannato di nuovo perché mi avevano detto che sei un nemico giurato. Ti impiegheremo se farai qualche servizio ai cattolici. Tutto vero. Ci ha detto Gesù. Vi darà tutto quello che volete, che cercate. Allora mi ha aiutato il Signore, cioè la messa in latino, ad memoriam, con l'uva premuta, con un pizzico di panni nelle fornelli, piccolissime fornelli che avevamo nel campo perché ero nelle miniere. Ho confessato. Sono impegnato per riconciliare, per pacificare, per aiutare spiritualmente perché erano dei momenti molto difficili. Gesù sempre brilla per tutti loro che chiamano Gesù. Gesù è vivo, è potente tra noi. Dove sono tu, il terzo è Gesù. Avviciniamo con tutto il cuore, con non le parole, con le opere. Perché Gesù è la risoluzione. Senza Gesù è niente. Il mio augurio è davvero che tutti possano vivere la Pasqua come un incontro, un incontro con il Signore presente, vivo, che trasmette alla nostra esistenza, con le sue fragilità, le sue ferite, le sue povertà, l'energia di una vita che non teme più la morte. Ecco, io credo che non possiamo augurarci di meglio. San Serafino di Sarof quando incontrava una persona salutava la persona dicendo mia gioia il Signore risorto. Ecco, è questo modo di vedere che ogni incontro in fondo è la promessa di quell'incontro che facciamo quando ci lasciamo chiamare per nome dal Signore e ci lasciamo guidare da Lui e crediamo che il suo chiamarci è più forte di tutte le nostre povertà, di tutti i nostri rifiuti, di tutte le nostre storie sbagliate e fa rinascere davvero l'essere umano a vita nuova. Buona Pasqua a tutti. Grazie.